Io sto in Parlamento, Presidente Renzi, la sua maggioranza, prima Letta e poi soprattutto lei, ha approvato otto decreti a favore delle banche. Oggi stesso è stata approvata in Commissione un decreto che permette alle banche, le stesse banche che la sostengono, tra cui Banca Etruria riconducibile alla famiglia Boschi che le ha dato dei quattrini alle sue fondazioni per la Leopolda, alle banche verrà consentita la possibilità di espropriare i capannoni delle imprese se non pagano tre rate di mutuo. Oggi è stata approvata e lei ieri al Tg1 ha dichiarato l'Europa parli meno di banche e più di valori, ipocriti. Andrebbe applicata una tassa sull'ipocrisia in Europa e soprattutto in questo Parlamento. Poi ha detto che il referendum in Inghilterra deve essere ovviamente, in Gran Bretagna deve essere rispettato, deve correggere la linea di qualcuno del Partito Democratico che ha detto che querela, che querelate. Ma sono medaglie al valore le querele fatte da voi, querelate. Ma che pensa di intimorirci? Avete preso una batosta recentemente, neanche avete detto due parole. Pensate di intimorirci con le querele quando diciamo la verità, quando stanno ancora aspettando i risparmiatori di Banca Etruria che sono stati truffati dalle vostre scelte.